Buonasera a tutti, grazie per l'invito, è stato veramente un onore per me essere qui a Cremona e essere in questo centro. Chi sono io? Solo due parole, ho già scritto qualcosina su bianco e nero, magari qualcuno l'ha letta, comunque io sono Eliana Schiavon, sono veterinario che lavora presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie nella sezione di Padova e mi occupo da un po' di anni di bovini, ma ancora di più di patologie respiratorie del bovino. Nasco infatti come veterinario che si è occupato sempre nell'ambito del bovino da carne in Veneto, sapete che abbiamo una grossa realtà e il bovino da carne si ammala nel caso del 40-50% di patologia respiratoria, quindi non si poteva che non lavorare proprio sulla patologia respiratoria. Ma nell'ultimo periodo, negli ultimi 3-4 anni, qualcosa è cambiato perché la patologia respiratoria nel bovino da carne è sempre più controllata, le realtà sono diverse, le condizioni ambientali sono veramente migliorate e lavoro quasi sempre nell'ambito invece della bovina da latte e soprattutto della vitellaia. grandi soddisfazioni ma anche grandi pensieri perché avere una vitellaia in cui inizia c'è una patologia respiratoria è un lavoro che deve essere un lavoro di connubio tra il veterinario, tra l'allevatore, anche perché c'è una problematica, come vi farò vedere, una problematica gestionale importante, dove l'ambiente è uno dei fattori di rischio più importante. È un'eziologia complessa, è un'eziologia complessa, difficile che si viene a verificare perché ci sono sicuramente delle componenti di agenti eziologici, i batterici e i virali, ma c'è anche tutto un substrato molto importante che è quello che è dato dall'ambiente, dallo stress che l'animale può avere, vedi lo stress da trasporto, è una cosa che nel bovino da carne si è sempre studiato lo stress da trasporto perché si ammalavano nei primi 20 giorni, quindi c'erano sicuramente le influenze, ma anche nel vitello il semplice trasferimento da una gabbietta a un box multiplo è per lui uno stress, quindi è importante proprio evitare tutti i fattori stressanti, ma cosa crea il problema polmonare? Il problema polmonare crea quello che poi il dottor Allodi farà vedere delle lesioni gravi che danno perdita dell'animale, può causare la perdita dell'animale, molte volte gli animali quando vado in allevamento nei vitelli li vedo già morti prima di capire che c'è un problema nella vitellaia. Mi porta a un consumo di farmaci importante e non ne andiamo fuori perché si parte ovviamente con il florfenicolo per arrivare al macrolide di alta dell'ultima generazione, è una perdita in cui anche le vaccinazioni devono essere inserite ma devono essere inserite con la conoscenza di come sta andando la patologia respiratoria, quindi un sacco effettivamente di perdite, oltre che quello che vedo è una perdita proprio nel valore della vacca da latte finale, cioè una perdita, una riduzione del momento del primo parto, una riduzione anche della produzione. Mi spiace che non è andata il movimento vario, però quello che volevo farvi vedere è che la patologia respiratoria ha fondamentalmente tre incontri, tre personaggi importanti, sono sicuramente l'ospite e qui vi metto un brunetto perché il brunetto nella patologia respiratoria va sempre a nozze, chi alleva bruno sa che per mille problemi ma il bruno è quello che si ammala di più. Io purtroppo viaggio molto sui vitelli a carne bianca e se guardo il nucchio dei morti i primi sono sempre i brunetti che se ne vanno. Abbiamo quindi una resistenza intrinseca dell'ospite che molto deriva dalla razza, altre invece possono derivare dalla vaccinazione della madre o del vitello che aiuta ma non pensate mai che l'alimentazione non sia un fattore importante. Un animale che non si nutre correttamente, che ha una bassa percentuale di proteine, di carboidrati è un animale che si ammala più facilmente che un animale che viene alimentato in maniera slana. E il primo alimento non è altro che la colostratura, il primo alimento che mi dà la parte importante immunitaria che mi aiuta l'animale poi a superare le fasi. Abbiamo poi di quello che normalmente mi occupo io in laboratorio le specie batteriche e virali e adesso vedremo anche quante sono e soprattutto come si muovono questi batteri. È importante conoscere come si muovono nella vitellaia, come si muovono nella mandria di vacche perché se ce le abbiamo nella vitellaia ricordatevi sempre che questi ceppi batterici stanno girando in tutto l'allevamento, non solo nella vitellaia. E poi questa fase molto molto importante che sono le strutture e il maneggiamento dell'allevamento. Purtroppo girando in molti allevamenti si vede quanto la vitellaia non è considerata il punto di partenza della vacca e questo dispiace. La vitellaia è sempre posta in un angolo, è sempre posta con delle correnti d'aria che se mi becco qualcosa è sempre solo lì, cosa che quando si tratta di animali così giovani la vitellaia deve essere un piccolo asilo, ma un asilo fatto bene, un asilo con le strutture e la pulizia che deve essere a livelli alti. Pensate di mettere un neonato, un neonato lo si mette nelle migliori condizioni, noi non lo facciamo con i bovini e il dato che il professore ha portato prima lo ha enunciato bene, 23% circa di mortalità. Non è un dato che trovo nuovo perché nel vitello da carne succede questo dato, nella frisone ce l'abbiamo, però è un vitello a carne bianca, è un vitello che ha un'altra strada, sei mesi di allevamento e poi l'animale non c'è più, qui invece abbiamo l'oro del nostro allevamento. Ma perché tutte queste patologie respiratorie? Perché il nostro bovino nasce già deficitario e questo dobbiamo saperlo di già, non è un animale, il bovino che noi alleviamo è un animale che ha un polmone piuttosto piccolo rispetto a tutto l'organismo, rispetto all'animale stesso, basta di pensare a una lattifera o un bovino da carne, il polmone se arriva ai 10 chili è tanto, su 600-700 chili di animale e lì però il sangue passa continuamente ed è completamente irrorato e va a coprire tutto il fabbisogno di ossigeno che abbiamo nell'organismo. Quindi è un animale che fondamentalmente per la propria struttura è già in deficit respiratorio e cosa fa un animale che è in deficit respiratorio? Respira più velocemente ovviamente, se respira più velocemente quello che abbiamo non è altro che un portare dentro, esporsi quindi a polveri, batteri, virus in maggior modo rispetto a un'altra specie che potrebbe essere ad esempio il cavallo o piuttosto il cane e il gatto. Quindi questa struttura è già veramente deficitaria, manca una ventilazione tra i vari lobuli polmonari, ogni lobulo è un mondo a sé, tanto sta che molte volte le polmoniti che si vedono in allevamento, i colleghi qui lo sanno, sono lobulari, vanno a colpire un solo lobulo, magari tutta la restante parte invece non è colpita. In più questi lobuli sono anche ben separati da un connettivo interstiziale che in alcuni, con alcune forme eziologiche viene anche a rompersi e a creare tipo singiziale che poi vedremo, creare dei danni importantissimi. Vi dicevo ospiti, ospiti già l'ospite che viene ad essere colpito dalla patologia ha una certa ricezione, ha una patologia respiratoria piuttosto di un'altra. Ecco che il più recettivo risultano essere i bruni, mediamente vi ho riportato solo le vostre tre razze, non sono andate a mettere tutto il resto, per arrivare alla gersi che è quella che per resistenza è maggiore per la patologia respiratoria. È vero la bruna dei deficit ma io vedo che sempre più anche la frisone italiana ha dei deficit a livello di patologie respiratorie importanti, cominciamo anche ad avere veramente molti danni da patologia respiratoria. Sta ad indicare anche come il mio lavoro si è spostato principalmente dal bovino da carne alla vitellaia, vuol dire che c'è una certa prodisposizione e sempre di più e questo forse bisognerebbe andarlo anche a vedere sulla tipologia di allevamento ma perché no anche sulla genetica una certa predisposizione alla patologia respiratoria. I momenti della patologia respiratoria nel bovino, abbiamo dei momenti ben precisi che noi dobbiamo stare attenti di cercare di portarli a un comfort maggiore. Abbiamo dai 0 ai 40 giorni di vita in questo caso dove appunto importante è il contatto tra adulto e neonato, la colostratura, la vaccinazione e l'ambiente ed è proprio il periodo dove la percentuale di mortalità è la più elevata, l'abbiamo già vista, quanto è elevata per tutte le patologie che sono enteriche e respiratorie ma soprattutto per le respiratorie. Ricordatevi anche un dato, non ve l'ho riportato, ma un animale che ha avuto una patologia enterica ha molte più probabilità, il 50% in più di probabilità di ammalarsi di patologia respiratoria, quindi l'intestino dobbiamo mantenerlo sano di default e lavorare sulla patologia respiratoria. Un animale che si ammala per un rotavirus e le schericchia coli, poi sarà dopo 20 giorni colpito dalla patologia respiratoria, questo è un dato di fatto, ci sono un sacco di pubblicazioni che dicono questo. Abbiamo un altro momento che è il post-svezzamento, altro momento importante perché è il momento dei raggruppamenti, dei raggruppamenti che vengono tra animali sani in genere ma che molto probabilmente che possono avere nella loro vita avuto dei danni polmonari che magari non abbiamo visto. Un altro periodo importante è dai 12 mesi alla lattazione. Il primo parto per un animale che ha avuto una patologia respiratoria ed ha una compromissione del polmone è un animale a rischio e poi vedrete che quando il vostro veterinario apre l'animale in campo dirà è morta per clostridiosi, ma non è solo clostridiosi perché se si va a vedere l'apparecchio polmonare ecco che noi vediamo delle lesioni molto importanti, quasi sempre vediamo delle lesioni importanti che hanno impedito ad avere una respirazione corretta del polmone stesso. Un animale che è in deficit respiratorio nel periodo estivo in prima lattazione è un animale che è molto più soggetto a patologie enteriche e soprattutto clostridiosi. Chi sono i nostri cattivi ospiti? sono tanti e non sono tutti, ve li metto così, però vedete il nostro povero vitello è contornato da patogeni, vi dicono che ne mancano comunque un paio di respiratori che sono l'adenovirus, il virus dell'influenza D, influenza bovina. Perché non ve li ho messi? Perché li abbiamo studiati ma dal punto di vista patogenico non creano delle lesioni a livello delle mucose ma non mi creano la polmonite. Questi invece sono agenti invece causa di polmoniti. Li vediamo un attimo perché alcuni sono conosciuti, molto conosciuti, l'IBR, il sinciziale, la parainfluenza, la BVD. Perché ve li metto qui? E perché dico che sono molto conosciuti? Li conosciamo anche perché sono all'interno di tutti i nostri vaccini che facciamo nella vacca, che facciamo anche nel vitello, ma nonostante questo poi vedremo le percentuali, abbiamo ancora problemi di patologie respiratorie di tipo virale. Poi abbiamo i patogeni ed è quello che stiamo combattendo maggiormente adesso, i patogeni di tipo batterico. Il patogeno di tipo batterico che più vediamo è sicuramente la pasterella mutocida, la manemia emolitica, ma ecco che abbiamo sempre più, soprattutto nelle forme di riacutizzazione delle patologie respiratorie, l'istofino insomni e il micoplasma bovis. Sono patogeni che quasi mai sono da soli, lavorano sempre in coppia o anche in più di coppia, anche tre patogeni nello stesso momento. Ad esempio molte volte troviamo la pasterella mutocida con il sigiziale o con la BVD oppure con la manemia, quindi questi non lavorano mai da soli e di solito quello che avviene è un insulto virale che può essere da questi quattro virus o ancora meglio da virus minori, come potrebbe essere quello che ho detto prima, adenovirus o influenza, ma anche questo virus che abbiamo purtroppo conosciuto nella nostra pandemia, che però nella veterinaria lo si conosceva almeno da 10-12 anni, se non di più, perché nel bovino da carne era causa di patologie molto importanti. Dico patologie nel bovino da carne perché non era conosciuto nel vitello. Una volta che si è cercato nel vitello abbiamo avuto la stessa situazione che nel vitellone. Il coronavirus non è un primario, non dà una patologia, non dà una polmonite acuta da solo, ma lo dà sempre con una compromissione batterica. Normalmente lavora con lei, con la manemia emolitica e con il micoplasma bovis creando la morte dell'animale. La nostra attività diagnostica cosa fa vedere? Allora fa vedere che abbiamo dei virus che si sono ridotti nella presenza, nella prevalenza dei nostri animali, che sono l'IBR, la parainfluenza sicuramente, ma abbiamo anche ancora la presenza di BVD perché negli allevamenti quella presenza di BVD abbiamo il grosso problema delle vacche da latte che non ve lo sto ad elencare, ma nel vitello cosa fa? Apre la porta alla patologia respiratoria, apre la porta agli altri patogeni. Normalmente, sto parlando solo dell'attività nel vitello fino ai due mesi di vita, il 4% sono positivi, che siano tamponi nasali o BAL sono positivi. Ancora, e quello che è una cosa che mi fa arrabbiare tantissimo, è che abbiamo ancora questo sinciziale 10%. Il 10% dei tamponi nasali hanno, prevedono, hanno il sinciziale. Mi fa arrabbiare moltissimo perché? Perché di questo abbiamo da sempre vaccini efficaci e nonostante a questo continuano a morire animali di sinciziale. Ancora un altro patogeno importante, direi due patogeni importanti, la manemia emolitica e la pasterella molto cida. Perché stanno diventando sempre importanti, sempre più importanti? Per l'antibiotico resistenza di questi ceppi. Ricordo la manemia emolitica dieci anni fa era manemia emolitica sensibile a tutti gli antibiotici che potevano esistere, tanto sa che molti allevatori dicevano una volta che gli bastava solo farglielo vedere l'antibiotico e funzionava. Adesso gli si fa la farmacopea veterinaria, gli si fanno più farmaci e a volte non si riesce a fare nulla. Ho visto proprio stamattina una mic, quindi quello che definivamo come antibiogramma in passato, adesso una mic, di una manemia emolitica era tutto resistente, tutto. Quando siamo di fronte a quei casi non possiamo fare nulla dal punto di vista batterico, se non tentare di utilizzare gli antibiotici ad altissime dosi, cosa che non si può fare tra le altre cose, e sperare, e sperare tanto. Questo in dieci anni si è verificato questo, dalla sensibilità piena alla resistenza massima. Siamo riusciti a creare antibiotico resistenza anche in questo patogeno. Si può ritornare indietro da questo fenomeno? Fortunatamente sì, fortunatamente sì, è quello che un po' si sta facendo in altre tipologie di allevamento ed è quella di non utilizzare sempre le solite molecole, staccare alcune molecole in modo che il microorganismo possa cercare di diventare sensibile, perché i geni della resistenza a crearli il microorganismo fa fatica, quindi ha bisogno di maggiori energie per farlo. E quindi se noi stacchiamo con un gruppo di antibiotici, ritorniamo un po' indietro. Ovvio che questo è un lavoro che bisogna fare in concerto con il veterinario aziendale, con il laboratorio, per cercare di fare dei piani per venire fuori dall'antibiotico resistenza. Guardiamo anche un altro signorino che si sta presentando, ed è l'istofilo insomni e il micoplasma bovis. Nella patologia respiratoria del vitello possiamo avere anche questo problema, non è ampio come nel vitello a carne bianca o nel vitellone, però comincia ad esserci. Quando però noi abbiamo in stalla questo problema, ricordatevi che il micoplasma bovis è anche un agente mastitogeno, quindi bisogna stare molto attenti a come posizioniamo la nostra vitellaia nei confronti della restante parte dell'allevamento. Vi faccio vedere poi questo dato che secondo me fa pensare molto. Il 40% dei nostri tamponi nasali sono positivi al coronavirus. È tanto, non è quanto nel il bovino da carne che è 60%, però è tanto nel nostro. E in questo caso ad oggi non abbiamo presidi vaccinali e purtroppo apre la porta agli agenti batterici ed è questo il problema del coronavirus. Andiamo a vedere cosa ve li ripropongo un attimo per pensare solo a due cose. Abbiamo detto abbiamo delle vaccinazioni che ci possono aiutare. Le vaccinazioni nel vitello, come anche negli altri animali, ma nel vitello sempre più, devono essere fatte in maniera corretta, nei tempi corretti, in base all'eziologia primus, ma anche alla comparsa delle problematiche. ricordatevi che il vitello è un animale che, se ben con lo strato, ha una sua immunità e quindi con le vaccinazioni non devo interferire con l'immunità materna, se no non faccio nulla. Vi ripropongo queste. C'era un'animazione e nell'animazione sparivano un po' di agenti e rimaneva la pasterella multocida, il coronavirus e microplasma bovis. Cosa sta a significare? Per questi tre agenti non esiste vaccinazione, ad oggi non esiste. Per la pasterella multocida esiste, ma non la possiamo utilizzare nella vacca da latte perché è associata a un IBR e quindi un IBR non deletto, quindi non possiamo utilizzarla. Quindi abbiamo un'arma importantissima che è la vaccinazione. Alcune cose sfuggono alla vaccinazione, sono poche e queste come facciamo a fare? Come faccio a gestire quello che non riesco a coprire? Ricordatevi che il terzo elemento è sicuramente la vaccinazione. vi, perché erano animate prima, erano animate e quello che volevo farvi vedere era appunto come si vanno a intervenire nel tempo i vari patogeni. In primis abbiamo durante la manifestazione clinica i virus e successivamente abbiamo tutti questi batteri che sono quelli che abbiamo visto prima che sono importantissimi perché vanno a causare il danno al parenchima respiratorio, danno che poi si può vedere ecograficamente e danno che poi comporta anche la perdita di peso, la perdita di produzione, la perdita di crescita dell'animale stesso. Però abbiamo detto abbiamo questi virus, questi batteri, ma nell'ambiente come si muovono, come si spostano l'uno con l'altro? Sicuramente il contatto tra naso e naso. Questo è il modo in cui l'animale si ammala e purtroppo lo sapete bene che il contatto naso-naso c'è assolutamente. Il patogeno viene a eliminarsi in un ambiente, in un ambiente ben preciso che è quello della vitellaia e quindi va a contaminare non solo le gabbiette, non solo la mangiatoie piuttosto che il succhiotto alto, ma contamina completamente l'ambiente. Si diffonde praticamente in tutto l'allevamento ecco perché è molto importante che la vitellaia trovi sempre di più un luogo adatto alla vitellaia. La vitellaia non deve essere alla fine o all'inizio del capannone, non deve essere vicina, troppo vicino ai nostri animali adulti perché altrimenti il passaggio dei patogeni ci deve, ci crea veramente dei grossi problemi. Su questo è un lavoro che vi fa vedere come un gruppo infetto e controllo assieme messo vicino a un gruppo sentinella a una vicinanza di 4 metri, quindi pochissimo. Nel gruppo sentinella se noi andiamo a fare una sieroconversione, quindi andiamo a vedere gli anticorpi per questi patogeni che sono i BR, singiziale e BVD, vedremo che dopo 15 giorni questi animali che sono solamente distanti 4 metri da quelli malati si andranno a positivizzare, non vuol dire che si ammalano, vuol dire che sono andati a contatto con il patogeno e hanno creato degli anticorpi. Per il singiziale 23 giorni, per la BVD 18 giorni, 4 metri di distanza, quando mai i nostri vitelli sono più lontano di 4 metri da un gruppo o l'altro? Mai! E oltre a questo molte volte il nostro vitello è in fila vicino all'allevamento delle vacche e questo ricordatevi che qualsiasi problema che io vedo nelle vacche, soprattutto anche di BVD, magari la BVD ce l'abbiamo nell'allevamento di vacche da latte in cui mi crea l'aborto piuttosto che la creazione immunotollerante, però il passaggio virale mi colpisce i vitelli creando queste viremie transitorie che poi cominciano e portano avanti la formazione polmonare. Quindi distanza minima fra adulti e giovani deve essere comunque maggiore dei 4 metri. Io quando vado in allevamento che stanno creando le nuove aree di allevamento gli dico sempre di spostare la vitellaia, magari vicino a dove faccio il latte, questo è vero, però se si può spostare e fare un gruppo vitellaia a sé lontano da tutto il resto, facilmente lavabile, pulibile con cemento per terra, è già un vantaggio. Questo. Questi batteri che abbiamo visto prima, che sono veramente tanti, hanno una durata nell'ambiente e la durata dell'ambiente aumenta con come? Con l'umidità dell'ambiente dove vivono. Quindi la presenza di materiale organico aumenta la persistenza di questi microrganismi nell'ambiente. L'umidità, mentre la luce solare diretta, va a ridurre la presenza di patogeni. È proprio per questo che gli ambienti sani sono quelli più arieggiati, quelli più esposti alla luce. I batteri, soprattutto il micoplasma, nell'umidità, nella lettiera, dura anche anni il micoplasma Bovis, è tremendo da questo punto di vista. Molto meno dura un istofilo insomni o una pasterella molto cida. Quindi volevo farvi solo un inciso su quello che può essere l'importanza della ventilazione in allevamento. Ricordatevi che l'animale è un animale deficitario. Più problemi, più l'animale è deficitario, più deve respirare, avere una frequenza respiratoria è importante, più ha una frequenza respiratoria più ingoia, diciamo così, innala batteri e polveri. Quindi una buona ventilazione, cosa che difficilmente avviene purtroppo nella vitellaia, nelle vacche si sta benissimo. Anche noi stiamo bene quando andiamo dentro. Nella vitellaia facciamo fatica. Serve a diminuire i patogeni che sono, aerogeni che sono nell'ambiente, ma anche eliminare i gas nocivi, quali ad esempio l'ammoniaca. L'ammoniaca purtroppo va a irritare le coane nasali, la mucosa delle coane nasali, creando un habitat perfetto per la manemia emolitica e per la pasterella mutocida, che godono di un ambiente infiammato e caldo. Loro lì si riproducono alla grande. Una volta che si sono riprodotte passano a livello polmonare. Importante è anche che la reazione consenta di diminuire la polverosità e il livello di tossine che ci sono nell'aria. Poi vedremo anche come è importante eliminare le correnti d'aria. Importante è comunque diminuire, come dicevamo prima, la presenza di gas tossici, gas nocivi. Guardate l'ammoniaca, e ve lo scrivo qui sotto, l'ammoniaca va a ridurre l'attività dell'epitelio mucociliare, quindi lavora a livello di coane nasali. Una volta che riduce questo, crea il danno. D'altronde se passa in quel momento anche un adenovirus o un coronavirus, mi azzera anche quel po' di immunità strutturale che hanno proprio le coane nasali e quindi entra direttamente a livello polmonare e crea i danni. Ancora vi faccio pensare un attimino al particolato di diametro inferiore ai due micrometri. Il particolato sono altro che le polveri. Le polveri sono un'altra causa di danno e di predisposizione alla patologia respiratoria. Non è che la polvere entri a livello polmonare, può anche entrare, però il danno lo fa già a livello di mucose nasali. Le polveri sono polveri dove? Dove le troviamo queste polveri? Le troviamo nella paglia, nei fieni, anche nell'alimento delle volte e in tutto il management della stalla stessa. Quindi state attenti anche a queste attività che voi fate a livello di allevamento per la pulizia degli animali stessi. Altra pratica che purtroppo si vede spesso è lo span di fieno, span di paglia dall'alto. Questa è un'azienda, no in verità è questa, è un'azienda proprio vicino all'istituto che ha per quanto gli abbiamo detto di non farlo, continua a farlo. Tra l'altro oltre che nei vitelli che sono sempre malati abbiamo avuto anche dei gravi problemi di sinusiti nelle vacche, con mortalità anche, in cui le coane nasali erano completamente occluse da queste polveri e quindi queste sono veramente pratiche che bisognerebbe proprio eliminare, anche perché non è un aiuto per la vacca, non è un aiuto per i vitelli. Eliminare le correnti d'aria, eliminare le correnti d'aria il vitello io lo vedo molte volte alle prese con le correnti d'aria e soprattutto d'inverno. Cosa fa la corrente d'aria? Prima di tutto abbassa la temperatura, se abbassa la temperatura l'animale deve cercare di mangiare di più ovviamente per tenersi la temperatura a un livello ottimale e in più questo cosa comporta? Comporta un continuo raffreddamento delle prime vie respiratorie. La corrente d'aria effettivamente quando è che si crea? Si crea quando abbiamo queste condizioni, queste non le vediamo più per fortuna ma queste le vediamo spesso, queste le stalle del Vicentino sembrano che abbiano dei teli nascosti ovunque perché appena arriva un po' di vento zac il telo. Questi teli non vanno posizionati ma soprattutto non vanno posizionati se sono ridotti a questo livello. la corrente d'aria purtroppo è una delle altre cause soprattutto dei primi 20 giorni di vita del vitello che viene lasciato nelle gabbiette non protetto dalla paglia magari oppure anche dal capottino è un momento in cui il calo della temperatura è talmente importante che i danni sono veramente molto ingenti su questo perché predispone alla patologia respiratoria base anche con una pasterella mutocida quindi non occorrono grandi patogeni ma se c'è raffreddamento dell'animale si crea il problema. Quindi serve assolutamente mantenere una temperatura ambientale ottimale come anche il livello di umilità ambientale. Quando abbiamo la vitellaia che ha un sistema di aereazione computerizzato quello che dico sempre non andate a manomettere il computer perché lui sa come lavorare, sa che deve mantenere una certa umidità e una certa ventilazione. Perché questo pippone dell'ambiente e della ventilazione? Ricordatevi che i batteri lavorano e creano danno se di fondo c'è un'alterazione ambientale molto molto importante. Quindi ritorniamo un attimo abbiamo capito quali sono i momenti critici di questo periodo e vediamo e vorrevo farvi vedere questo periodo qui che è il posto svezzamento quando noi facciamo quei bei gruppi e guarda caso ricominciano a esserci le patologie respiratorie perché qual è l'incidenza della patologia respiratoria quando noi andiamo a mettere insieme animali sani ad animali malati o precedentemente malati. Se noi facciamo in questo lavoro ha fatto 144 vitelli divisi in box da sei per ogni vitello più box abbiamo visto che un vitello sano ha 2,8 volte di più la probabilità di incorrere in episodi di BRD se posti con vitelli colpiti in precedenza del BRD. Quindi è importante che i vitelli che sono stati colpiti vengano messi insieme agli animali che sono stati colpiti o addirittura da solo, da soli. Perché? Perché nelle equane nasali alberga manemia emolitica, alberga micoplasmi, albergano pastellelle mutocida che vengono spostate e per non parlare del micoplasma bovis che girano poi negli altri animali. Chiudiamo direi il nostro momento patologia respiratoria per darvi solamente alcuni messaggi. Sicuramente la patologia respiratoria farla in 20-30 minuti è difficilissimo perché ci vogliono giorni per parlare. Ogni microrganismo ha una capacità patogenetica diversa, quindi quello che voi dovete andare fuori da qui sapendo che non è un solo agente batterico virale che la dà, ma sempre un grande insieme di agenti. Fondamentale è la colostratura del vitello, non tanto nelle forme interiche, sicuramente nelle forme interiche, ma anche nelle patologie respiratorie. Tutto quello, tutti gli anticorpi che noi possiamo dare nel momento della colostratura sono un beneficio anche per l'apparecchio respiratorio del vitello. I rimescolamenti sono un fattore di rischio molto molto alto. Se dovete studiarvi la vostra vitellaia, studiatele in modo che sia un posto appartato lontano dagli animali adulti con la possibilità anche di suddividere l'animale che ha avuto precedentemente BRD da quelli sani. Vedrete che i sani partono con una marcia in più, gli altri dovete starci dietro veramente tanto per portarli a livello di quelli sani. La vaccinazione aiuta la patologia respiratoria, è un'arma, ci può dare una gran mano, però deve essere, non deve essere la vaccinazione fatta per sentito dire faccio questo vaccino rispetto ad un altro. No, deve essere studiata a tavolino con il vostro veterinario che ha individuato i momenti critici e io con la vaccinazione non devo altro che arrivare prima del momento critico e cercare di dare l'immunità a quell'animale. Quindi la vaccinazione è una cosa studiata a tavolino e io dico sempre una camicia che si mette all'animale e la camicia però deve essere fatta a su misura, non può essere comprata e messa lì a caso. È fondamentale la gestione dell'ambiente, la pulizia, la ventilazione. Ricordate che ogni insulto tossico o meno può creare dei danni al vitello. Quindi luce sul vitello nei vostri allevamenti perché da lì parte tutto e un danno che fate nel periodo dai 0 ai 6 mesi è un danno che poi se lo porta avanti tutta le vita del vitello. Se io chiuderei, per chiuderò con questa foto, è appena nato, da lì comincia la nostra sfida, farlo arrivare sano. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.